Eccoci qua alla Stiglato Mugello a presentarvi Lancia Y12 5 porte start e stop allestimento gold, vettura del 2012 con 14.700 km, in perfette condizioni la trovate alla Stiglato Mugello a Borgo San Lorenzo dietro al supermercato Conad. Lancia Y12 start e stop anno 2012 14.700 km alla Stiglato Mugello. Grazie.